Nonostante siano stati conclusi dei lavori in una delle strade interessata da un cedimento, restano ancora diverse le criticità all'interno del quartiere San Luca di Caltanissetta, dalla cura del verde alla viabilità, problemi segnalati più volte in passato dal comitato di quartiere che raccoglie le lamentele dei residenti, in merito alle condizioni di alcune caditoi e tombini, la presenza di buche che rischiano di danneggiare le vetture e che con le piogge si trasformano in pozzanghere, anche la pavimentazione di velta di alcuni marciapiedi. Altro tema riguarda gli interventi per migliorare il giardino della legalità e renderlo maggiormente fruibile da grandi e piccini. Come comitato di quartiere San Luca facciamo un sollecito ulteriore all'amministrazione comunale su delle cose che abbiamo fatto evidenziare per diversi mesi e addirittura qualche cosa anche per un paio d'anni, tipo il famoso petischio che c'è nel giardino della legalità, dove stiamo cercando di fare il possibile per essere più accogliente possibile. Per esempio qui ci sono dei manufatti fatti dai ragazzi della Casa Rosetta, persone con disabilità e noi li mettiamo a disposizione tutto l'anno. C'è la casetta dei libri, ci sono dei manoscritti di bambini di scuole elementari. Ma non è solo il problema nel quartiere San Luca, solo il giardino, ma in tutte le strade, ci sono le strade con la broda, sono piene di buche, stanno distruggendo le macchine. Le persone che sono lì a poter fare la spesa a piedi nei supermercati non possono farlo perché è pieno di buche e quindi va a rischio la loro incolumità. Quando piove ci sono delle puzzanchere, sembra un lago. Poi in questo quartiere c'è l'esigenza di delle potature, degli alberi che sono all'altezza uomo e diversi alberi addirittura arrivano all'altezza rispetto alle palazzine, al terzo quarto piano, dove stanno distruggendo anche tutta la parte muraria di queste palazzine, dove tanti abitanti stanno polemizzando affinché questo venga risolto. Poi c'è anche una scala tra Via Tiziano e Via Leonardo D'Aminci che l'8 di novembre ha fatto rilevare che c'è un problema, sono state messe delle transenne. Vogliamo delle risposte certe, sicure, perché ci sono ormai anni di solo promesse e noi non possiamo permetterci il lusso di dare ancora promesse a 6.000 persone che abitano in questo quartiere. Il comitato intanto pensa anche ai progetti futuri per il quartiere. Abbiamo delle iniziative quanto prima che sul progetto che facemmo con il nostro Liborio Gattuso che è stato uno dei cofondatori del comitato di quartiere, dove c'erano dei muri che addirittura i ragazzi non facevano altro di sporcare tutti i muri, noi abbiamo creato un murales con i padri della legalità, Falcone Borsellino. E noi su questo faremo altri murales, su altri muri che attualmente sono tutti imbrattati. Noi faremo diventare questo il giardino dei murales, se vogliamo che ci sia la rinascita in questo quartiere. Ma vogliamo la collaborazione, la partecipazione, l'amministrazione murale ci deve aiutare.